sbloccato tutti i personaggi adesso a me mi manca una partita con wolf e una con guerra dopo le sbloccate tutti bene non lo so mi sa di no ancora ok potete rinvitarmi adesso secondo che prendo la roba a ma siete usciti allora mi sta facendo parti con qualcun altro sì infatti sì quando è così sì e poi non c'è nemmeno un tasto per interromperla la partita no devi chiudere il gioco sino quello è la becca va bene non c'è per abbandonare la partita ma quello te l'ho detto una beta magari non ce l'hanno messo però magari ce lo metteranno che poi questa è la terza beta perché già ce ne sono state due e io l'ho giocate e non era così e era diverso adesso hanno migliorato prima era era un casino comunque le armi sono tante e sono insomma alcune pelle alcune insomma non proprio gli specie che non si può mirare è perché va bene in realtà non c'è bisogno però lo puoi fare solo con i cecchini e fucile da cecchino e con quello sì e mira solo per pc anche tipo gli accessori alle armi tutta quella roba di qua secondo me avanti sì ma vedrai che piano piano aggiungeranno roba potete invitarmi adesso sono cosa per muta per esempio quando l'ho giocata io c'erano solo le partite normali e anche non c'era quindi già una cosa di prima di ranna e sì no ma è in sperimentazione ancora il gioco è complesso ha mangiato il mosconi ma da mosconi 12 g epica bello a epica non leggendaria e leggendari sono i rossi i leggendari sono quelli rossi sono i più potenti non ci posso fare nulla perché la lingua no gli api ci sono i viola i leggendari sono i rossi è mai rossi e rossi allora c'è scritto epico in rosso allora buono non so forse sarà un altro contrario che quelli leggendari sono viole ci sono così perché anche la mia allora forse si può darsi perché c'è scritto common c'è scritto rare e poi uncommon significa non comune non comune raro ed epico allora forse allora non ci stanno i leggendari pensavo che viola sono i rari comuni sono i blu i non comuni sono i viola anche a meno che non è colpa della traduzione perché io l'ho messa in italiano no no è giusto è giusto si va bene no sono la viola più chiaro sì 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 e poi santo sì perché io c'ho epica rara non comune e comune comune come in qualsiasi altro gioco tipo i comuni erano verdi i rari e cioè i non comuni erano blu i rari e non verdi pure il contrario insomma ho solo questo in giallo comune non comune epico e rari ma anche così vanno bene soltanto che magari dovrebbero distinguere i comuni dai rari perché anzi non comuni dai dai rari perché così non si capisce bene cioè devi proprio guardare con l'attenzione per capirlo se no lo scambi per uguale cioè uguale colore una stanza sì 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 una partita con wolf e una con guerra ok vai comunque già così non è male come gioco è tranquillo non serve neanche il pay to win roba del genere no no assolutamente almeno attualmente da quel punto di vista lì è a posto no no i crediti te li da man mano che apri le casse non serve neanche che li compri no no te le da normalmente la roba a mano che vincere partite certo più partite vinci più casse apri e più roba prendi però anche se vinci poco per esempio te le dà comunque perché danno quelle giornaliere devo usare questa quadri c'è tipo uno di vita è sì lo so far ma quell'arma di epicali che ho trovato fa 30 di danno però c'è un rinculo assurdo ma si si alza troppo si alza troppo e perché quella è potente ecco perché è molto potente però è incontrollabile mamma mia io vado già di sopra sì sì stanno già aprendo quella giù io controllo la b se arriva qualcuno da dove da dietro porca troia mi hanno tirato una bomba sono saltato in aria vado aprire questa qua sotto vai 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 sperando che non abbiano già aperta no no mancava un secondo dai ma morite ma vada lì vada lì bisogno d'aiuto dolmen no? no c'era un hoxton che mi ha portato il culo quadrato devo correre su perchè è stato ok l'ha ammazzato quello su e mi hanno tirato di giù sono sempre in due ne ti dici uno e ne arriva un altro da dietro non si sa nemmeno da dove arriva non si capisce un cazzo la mappa non c'è che ti dice arriva da destra da sinistra tocca girarti di continuo eh si perchè una skill che c'ha il radar con quello vedi dove sono gli altri c'è però se non la metti non li vedi è quello la devi guardarti sempre attorno foto una doppia tripla niente a me mi ha disconnesso dalla partita mannaccia ma come non lo so l'abbiamo mi ha perso bisogna andare a bloccare quella sopra bisogna andare a bloccare quella sopra perfetto eh io sono sopra è bloccatela quella sopra perchè se aprono quella è la fine ma comunque vengono loro perchè sono a 400 punti e mi sparano da dietro non lo so eh si si no ma contano anche le uccisioni quindi se fanno più uccisioni loro contano è un casino io ho quasi tutte le armi mi mancano tre pistole abbiamo vinto di 20 punti ah avete vinto anche per 20 punti una sola ne abbiamo difesa ah 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 si si è perchè è quella centrale ve l'ho detto se difendete si 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 abbandona così vediamo un po' si 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 adesso ho sbloccato il poliziotto adesso dovreste aver sbloccato tutti i personaggi a me mi manca solo hoxton da poco ah ok ah vabbè è facile quello dai ho sbloccato bonus mi manca hoxton anche a me e devo fare quindi una partita con wolf uguale si si una partita con wolf vabbè allora ricreo la room e ragazze se mettevano la cosa che potevi scegliere se s criminale o poliziotto così io ne ho sempre lo so non è però se beccavi le squadre che sceglievano sempre il criminale ad esempio e te sceglievi il poliziotto ma credo credo che si sarebbe un casino così perché magari capitava come ti ho detto che capita che erano poliziotti contro poliziotti o criminali contro criminali cioè non avrebbe senso una cosa e lo scopo del gioco è seste il criminale uccidere gli altri poliziotti e aprire le casse forti se sei poliziotto uccidere criminali e difendere le casse forti non può essere uguale c'è uno deve per forza scegliere i rapinatori e uno i poliziotti però è bella come cosa perché alla fine usi tutti i personaggi se no se fosse così ne potresti utilizzare solo uno negli altri invece non si vanno loro non li potresti sbloccare facilmente ah poi se volete comprare le card per le armi o per le skill bastate che andate nello shop e ci stanno ogni giorno cambiano le card quindi ogni giorno ci sta una cosa diversa e le potete acquistare tranquillamente con i crediti normali se no aspetti apri le casse fai la roba piano piano ok io non ho fatto in tempo a cambiare ah ok io non ho fatto in tempo a cambiare stavo vivendo l'acqua vabbè tanto non ho fredda pian piano sblocco guarda lì sopra ah io sto alla b anzi alla c non ho fredda che cazino che cazino che cazino che cazino che cazino la c aperta non ho fredda ma che cazino ma io sto per il criminale eh non siamo la qufredda siamo fino al bordo noi siamo i criminali lo vediamo adesso ahah la Cazino e adesso La Cazino hai fatta la bomba è fatta la bomba no eh questi sono le armi con l'aprote Oh, che! Dai dai aiutami Ah non perciò Non perciò da dietro Non perciò da dietro Sì, è un po' di unico stardo, è un po' di unico stardo, è un po' di unico stardo. si fa si si mi sono in grado male uuuh mazza ho fatto una volta ma come vai ok Ok, la l'altro è è vero! Ah, quindi tre почему? Non è cammino o no, non è fatto. Funifa! Non più veloce, si è avvastanza da qui... Ok, è vero! Non ciò non è capace! di casa ah è il giro ci siamo in casa va beh andiamo 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 abbiamo aperto tutte le ragazze è perchè dopo abbiamo fatto bello ho vinto una cassa viola uscite uscite così prendiamo mettiamo a drillare la cosa beccato fa niente comunque per la cassa viola ci vogliono otto ore prima che brilla non sono visto infatti tre ore quelle normali viola quelle e poi ci sta quell'altra un'altra che ci vuole 12 ore però quell'altra te la da è raro che tra da mi sa ogni volta che sali di legati da quella quella ci vogliono 12 ore prima che la sblocca la si va bene la sblocca si adesso si aspetta aspettiamo cose sono ci sono basta che mi invitate ma ci sei non so che mi piace eh quello è bello quello non è con l'originale l'episodio di quando si è bruciato tutta la faccia che risposta una gravata aha ho capito l'ho accettato ma eh non mi fa entrare avete selezionato la modalità quella della classifica si è ranked eh allora non ho sbloccato l'ultimo personaggio devo giocare ancora una con wolf ah vabbè allora facciamo normale dai così sblocchi il personaggio e poi puoi fare con noi perchè le ranked ti danno premi migliori eh ah si eh allora si si danno le casse quelle viola le ranked non sempre però più facile che te le da rispetto a quello normale eh prima stavo vai accettate eh io son dentro eh ma anche solo te donne no 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 io ho creato ho creato la stanza non lo so io ma avete invitato non so che me l'ha invitato me l'ha invitato me l'ha invitato dillo allora no 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 ci sono ci sono mi film e poi video mi il vero qui Ortiz marc mi ha Norma sono Sì, no, non sempre, dipende dall'orario. Per esempio di giorno parte subito. Comunque se tipo questo gioco professionale senza VPN, cioè percino la giura italiana, significa che io li lascio a un'altra volta di seguito? Sì, no, no, ma tutte le beta non sono mai state con il VPN. Ci ho giocato tranquillamente, senza VPN, senza problemi di connessione. Poi ovviamente quando sono terminate mi è arrivato il messaggio che dovevo aspettare che usciva l'altra beta. Ah no, sono stato rimosso dalla lobby, non so perché. Vabbè, rifaccio la... Mi è arrivato lì. A me mi ha buttato fuori, non lo so nemmeno io che è successo. Forse è scaduto il tempo, essendo che non ha trovato nemici o altri giocatori e ti butta fuori. Non ne ho idea. Sì, può darsi. Facciamo una cosa, arrivi. Sì, sì. Eh, per forza, per forza. Sì, sì, eh, per forza, facciamo una cosa, chiudiamo l'applicazione. Facciamo prima. Eh, purtroppo non c'è sta opzione qua, questa è la pecca, però, vabbè, tutto il resto funziona perfettamente, non c'è... Giusto alcune volte qualche bug, però, vabbè, normale, la beta. Mi servono 5 ore e 25 minuti per aprir quella viola. Quella dava 8 ore. Quella dava 8 ore. Buono, buono. Sono già fatta farti prima. Sì, sì, no, hai fatto bene. Così almeno adesso ti becchi roba buona. Sicuramente. Stai rientrando? Sì. Ok, potete cliccare. Un secondo che mi appare online. Io ho cliccato, però mi sa che si è bloccato il gioco. No, 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 è ancora... Ah, eccolo. Ok, è apparso l'invito. È apparso online. È che ci vuole un po' prima che appare online. Sì, ma io ho accettato l'invito, però non mi ha portato nella lobby, eh. Come no? Eh, sto vedendo qui l'immagine di caricamento, credo. Ah, no, perché ancora non ci sto. Perché ancora non ci siamo. Da chi l'ho accettato l'invito, allora? Ah, ecco, appunto. No, no, adesso è giusto. Ci sono, ci sono, ci sono. No, basta che guardi sotto che ti appare il tuo avatar. Sì, 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 ma c'era lì l'immagine quella di sfondo con le monecosardi che bruciano. Con le banconauthe. Però non c'era la lobby, capito? Allora sarà un piccolo bug. A volte lo fa anche a me. Comunque, ora vi vedo, quindi per me è a posto. Sì, sì, adesso sì. Senta 6 secondi. Sì, sì, stavolto perché ho startato adesso. Adesso facciamo... Mettiamo prima che... Ecco, mi sa che ha trovato, eh. Mi serve Wolf, dammi Wolf. Ecco, adesso parte. Dammi Wolf, perché devo fare una partita con Wolf. Ah, bella sta mappa. Sì, che sta mappa si è ancora più piccata. Sì, questa sì. Riccato perché sono sul piano, quindi è più comodo. Infatti. Eh no, quell'altro è più difficile infatti perché devi salire le scale, eccetera. Infatti. Allora prendo l'ultimo, boh. Anche io. Non l'ho ancora provato. Che è l'ultimo, Sanders? No, bonus. No, è... No, è esatto, è bonus. Sono una sega nei tutti sti nomi. È l'ultimo, non è nemmeno un giorno che ci gioco. Datemi tempo per impararle. Ma sì, sì, man mano che ci giochi poi capisci tutto quanto c'è problema. Ora siamo poliziotti, quindi... I criminali. Oh, attenzione, questa nuova cifra. Da sto strano a giro. No, no. Bastardo. Eh, oh. Preso, preso. La licetta, che che è? Ti dà munizione. Adesso, è... Eh, è ritornato, è ritornato il bastardo. Dobbiamo stare un po' lungo. Questi possono prendere già più. Dobbiamo stare un po' più attenti. Eh, sì, vabbè. Dobbiamo essere coordinati più che altro. No. Cavolo, mi è finito... Mi è finito il potere del V-Docs. Non ero più riparato, mannaggia. Venite a darmi una mano con la cifra. Eh, aspetta, c'è tutto qui che saltella. Sto finendo. Ah. Eh sì, ci stanno quelli che saltellano sempre. Io ci accorgi di tutto. Ma che gamma è? Ma loro c'hanno le armi potenziate, mi sa, eh. Cazzo, ma guarda come si muovono. Attenzione dietro. Attenzione dietro. No. No. Ah, sì. Scusami. 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 Eh, che cazzo. Eh, non è dietro il muro, però. Eh, questo è più organizzato. Più che organizzato, mi sembra che hanno le armi forti. Sì, oltre a quello, però, sono più organizzati. Lo vedi come giocano, attaccano in tre, sembra. Ne ho uccisi due con la bomba. Con la bomba. Ne ho uccisi due con una bomba. Eh, ma tirato giù. Ma se stiamo in tre lì davanti alla cassaforte, non è che la proteggi prima, vero? Sì, sì, no. Abbiamo vinto perché, vedi, abbiamo protetto quella più importante. Quella gialla. Quella principale. Ti chiedevo. Ti chiedevo. Sì, sì, vai, vai. Dimmi, dimmi. Ti chiedevo, ma se rimaniamo in tre davanti a una cassaforte, la apre prima, la protegge di più, più velocemente, cioè, com'è? Oppure è uguale? No, no, no. È uguale? No, no, è uguale, è uguale. Ci vuole il tempo che ci vuole. Ok, ok. Ci vuole... Guarda, ti metti i secondi quanto tempo ci vuole per tre aprire. Sì, 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 ma era giusto una domanda, sapesse più eravamo e più faceva prima ad aprire la cassaforte o a proteggerla. No, no, guarda, anche io che pensavo che fosse così, ma... Ragazzi, non è così. Giocate. E siamo con Payday ora. Stiamo giocando a Payday. Ok, allora... Vabbè, scarico pure io se volete. Vieni con noi, vieni. Un 4 ci serviva, Rob. Ci abbiamo proprio un posto libero. Esatto, giochiamo in 4, pure meglio. Lo trovi sia su Tap Tap che su Puto Town. Come si chiama? Payday Crime Wars. Payday Crime Wars. Payday Crime Wars. Su Tap Tap, giusto? Tap Tap o Puto Town, dove preferisci? E c'è anche l'italiano. È una beta. Da questi, sì, sì, è Closet Beta. Sì, sì. Comunque, è proprio da colmo, eh. Ci prendono per il culo. Cioè, è una beta non rilasciata nel nostro paese che c'ha l'italiano dentro. Eh, è proprio... What the fuck? Cosa? Cosa? Ma che cazzo? Sì, sì, no, non è italiano sto gioco. Cioè, sembra che sia americano. Ti parte in inglese il gioco, però poi puoi selezionare la lingua italiana, quindi... Sì, no, però è meglio così, perché in alcuni giochi, per esempio, non ci capisci niente, perché o è solo in inglese o addirittura in cinese o giapponese o altre lingue che non si capisce niente. Sì, sì, ma però, almeno, se lo rilasci con l'italiano, cioè, c'ha messo l'italiano, rilasciala anche in Italia, la beta. Mi sembra... Perché ancora non l'hanno fatto. No, perché ancora non l'hanno finito, capito? Stanno ancora... Non so, però se ci metti nella lingua italiana... Ah, beh, hanno voluto far così... Alla fine è pure meglio, così ci abbiamo già l'italiano... Ah, quello sì... Che... Che non... Che non si trova con l'inglese... Allora, ragazzi, ma avete notato che... Su Discord, anzi, in generale, sul telefonino, la connessione dati è molto meglio del Wi-Fi, che avete notato sul telefono di mobile. Allora... Ok, adesso, sto entrando, due secondi e... installa... Si vede... Si vede... Si vede che è più stabile quella... Si vede... Si vede... Si vede... Si vede... Si vede... Esatto... Esatto... Anche questo, infatti... Quando puoi dipendere, tipo, dove si abita, perché se abiti in città... Potremmo stare un po' fuori città, in campagna... Perfetto male... Guarda, io... Sto... Praticamente... A Roma, però... È in periferia... Non proprio centro centro... C'è... Il centro ce l'ho a un'ora... A un'ora da casa mia, praticamente... Allora, io sto entrando... Due secondi... Skyloading... Intername... Cazzo, ho piazzato la torretta... E subito mi tirano giù... Col P90, se non mi sbaglio... Mi segnava il P90... Voglio anch'io il P90... Arratemi il P90... Eh... Quello ancora non ce l'ho neanche io... Quindi... Bastardi, sono bloccato il P90... Eh... Il P90... Una... Una bestia... Eh... Ma poi è pesante... Quella... Sì... La bomba sopra... Tanto non lo devo portare... Lo devo portare a lui... Eh... Vada... Com'è FIFA 20... Bello... Com'è? Sì... Che non è male... Dai... Ha una grafica... Decente... Insomma... È buona come grafica... Comunque la puoi aumentare... Lo puoi mettere... Alta qualità... No... No... Lui sta dicendo... FIFA... FIFA 20... Ah... FIFA 20... Ah... Sì... FIFA 20... È caccia... Sì... 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 Eh... Abbiamo vinto... Dai... Vinta... Aperte tutte e tre... Oh... Non ho live... 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 Così... Aspettiamo... Lui... E... Così... Abbandona... Però... Sicuramente... Sta facendo... Cioè... Deve sblocarsi pure lui i personaggi... Prima di far il ranking... Quindi... Non possiamo ancora farlo... Bah... Comunque io... Ah... Probabilmente... Ora... Pog 180... tipo che se la polizia invece su pd2 normale non si può sì no infatti no classificata sbloccata la modalità classificata una partita due round completi contro altri giocatori per scalare la classifica e ottenere premi migliori sì sì sono due era anche se si risponde oppure sì 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 no no è uguale solo che era anche cioè ci stanno i punti lega vedi ci sta bronzo oro latino e così via partita iron e poi fai 12 poi ci sta bronzo 12 e poi sia sali a oro latino e così via tieni l'inglese a me mi dice ferro non mi dice iron ferro 2 no iron significa aggiungere aggiungere i miei amici come ti chiami come ti cerco skyzvod ah vabbè uguale ok perché sto mettendo in italiano vediamo se l'hanno doppiato bene no doppiato solo le scritte non è doppiato in italiano lezzo solo il menù ora te chiedevi troppo doppiato anche se te la chiedevi proprio l'impossibile ho detto può essere che io ho detto che c'era l'italiano ma come lingua non doppiato in italiano fatto ti ho inviato la richiesta adesso secondo è che ti ho inviato la richiesta la richiesta dove si accetta allora visto dove ti dice è visto dove ci sta una specie di antenna sotto ci stanno due omini esatto a sinistra è un piccolo ci stanno due piccoli omini ma allora hai fatto voto ok a post se si ti vedo ti vedo madonna ferro 2 ragazzi che schifo ma anch'io sono ferro 2 non è che non l'ho fatta nemmeno una partita quindi non è che va invita mi invita facciamo io aspetta un secondo che non mi sia apparso nella lista quindi devo rifar tutto il coso e l'invita mi viene uscita mi dice non ci sono sessioni di gioco ah no asio no aspetta aspetta un attimo perché ah ecco mi è apparso nella lista ecco è fatto ok adesso posso invitarvi tutti e quattro anzi tutti e tre possiamo giocare tutti e quattro non invitare tutte e quattro sì sì vabbè ok possiamo partire ma dai alla l'icona di di chains mi parlo di no di wolf cazzo come si chiama quello chains? si è il capo ok ma io avevo payday 2 è tipo sbloccato mi pare una volta la one down la maschera l'ultima maschera non so se la conoscete la one down payday 2 normale sì sì prima prima era così infatti prima era così infatti che sbloccavi anche le maschere tutte queste cose qua adesso invece hanno cambiato adesso sblocchi il personaggio e c'è una maschera diversa poi se vuoi ma io non dico qua io dico su pc io giocavo su pc dei due ah vabbè forse li è diverso vabbè cambia da al pc vabbè e infatti questo gioco qua non è c'è niente con quello di pc completamente diverso è mobile c'è l'unica cosa uguale nei suoi personaggi si vabbè io non sono ancora in partita voi si no nella no sta facendo il carico ma ho buttato fuori sta facendo il carico a me è uscito eh ne ha buttato fuori si anche a me è uscito non ha trovato partita evidentemente provo a invitarmi aspetta che mi metto un avatar a noi ecco è partita è partita è partita è partita ragazzi dovete aspettare una ecco mi appare loading e mi sta caricando la mappa no almeno ah no allora mi ha fatto entrare una partita e noi infatti non ci state ci stanno altri vabbè allora aspettare un attimo vabbè io li abbia un gioco perchè si appoglia di come fare scavate di carico si 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 anche a me fa così ogni tanto ma è normale comunque una beta i bug ci stanno ma che figuri che bello sta cosa cosa guarda che bello il mio account come l'ho fatto guarda che bellino ci ho messo la la cosa tutto precisino precisino ha tornato la richiesta io c'ho pure la la cornice aspettate si si no quella la puoi cambiare non serve che la sblocchi basta che ah si si aspetta si la devi sbloccare una vabbè io non l'ho sbloccato questa ma com'è non l'ho sbloccare una ma perchè doldo non mi entra no aspetta aspetta rifaccio la stanza esci dio ok vai vai accettate ok e ma non mentre no 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 ci sei ci sei ok vado ho mandato la richiesta skype si si dopo accetto spero di averla mandata giusta io ho scritto skype però secondo me si è bugato il matchmaking no 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 perde tempo perde tempo no ci vuole un po' tempo prima che cerca a volte così però te ve l'ho detto a seconda dell'orario ragazzi di sera è così che start a dopo tanto però di giorno per esempio parte subito ma il bello è la parola start a dopo tanto ora passano anni ragazzi starterà guarda la vasta un minuto ecco hai visto no se perché si blocca perché si blocca perché dopo un po' che non trova gente esce da solo si però dovrebbe rimandarci nella norma non dovrebbe buttarci fuori completamente ma secondo me perché io ancora devo fare il tutorial vuoi vedere secondo me per questo ma no no il tutorial è una cosa che posso prendere fammi fare una partita fammi fare una partita anzi guarda sa che ti dico chiudo il gioco e lo riapro eh proviamo a provare a me mi ha fatto entrare in partita comunque sto con uno che è forte l'altri non li conosco comunque devo chiudo e riapro il gioco e non ci sarei conto che invito lì sì sì no è meglio cambiare persona che crea ok vediamo se una start a 3 4 a 10 dovrebbe start a fare vediamo ok io sono di nuovo nel gioco io ti vedo io ti vedo accettato il tuo invito sì sì ok ragazzi a me a venti a start auto è perché si era baggata la lobby comunque adesso faccio una partita arrivo fatenevo ah vabbè vabbè allora facciamo intanto noi va eh ricrea la stanza dio ho avviato la partita di gatto adesso no ho avviato la partita vabbè 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 oddio ma le mappe sono diversissime da dei due normali ma conta che sei sul telefono non è un pc o una play dopo dovrebbero almeno che vabbè dovrebbero essere uguali al a quello normale perché comunque è sempre un payday sì però non è payday 2 ho letto che vorrebbero fare anche payday 2 per android o ios però ancora non è uscita ancora non hanno finito questo ho fatto una doppia ma vedami da caso mi sta mi sta startando le partite dopo un po abbastanza ecco un momento di partita dopo la botte di aperto dopo 57 secondi mi ha saltato la partita da raffinatore alla mia c'è mattinato a capace non è brutto non è brutto come gioco no no anzi si gioca abbastanza bene dire se va bene due alla fine e che cazzo le persone ti sciottano perché alcune sono forti di su però ma dov'è ma dov'è che mi spada sì sì no trovi quelli che so più forti tipo che hanno roba migliore o però è raro di solito trovi gente sempre un livello comunque simile non c'è ragazzi ci sta sto tolto vai 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 il capono vai il capono vai il capono abbiamo 20 ragazzi io sto facendo sto facendo mo sto facendo quella che mi ha startato sto killando tutti col pompa due colpi e li ammazzo si comprevo vabbè stia trovi proprio devastano qualcosa ma vera tutti ma qui è veramente bello questo è un po' che si toglie ora dobbiamo chiedere al revo di creare la stanza per pede eh si infatti non sarebbe male così almeno però qui non c'è il clan vera non si può creare un clan in gioco non lo so mi sembra di no per il momento però li aggiungeranno vedrete ok io ho finito abbandona partita allora giusto mi posso invitare tutti minchia mi hanno fatto a pezzi fai abbandona claudio io sono uscito eh ho chiuso il gioco ho fatto prima potete invitarmi ho finito vedendo quasi il tutorial si no no ma già dalla prima beta che giocai eh era figo già non era male come gioco ma allora come si fa porca puttana oddio il bulldozer lavazzi quanto tempo che non lo vedo in base alle kill e l'oro? eh ho perso ho perso eh questi erano forti cazzo ne ho uccisi ma ne hanno uccisi doppio loro io comunque ci sono eh sì sì io sto dai startiamo cioè mi invitati mi startiamo sì create la stanza così io sono il lobby eh un ragazzo segreto no sei off? sei off landon? ah ecco che ora eh no no aspetta aspetta te l'ho detto che ci vuole un pochino prima che ti mostra online vai vi invitati tutti e due sì sì sono entrato sono entrato ma arriva in ritardo il tutto eh no eh te l'ho detto infatti arriva il tutto in ritardo ragazzi o start a 10 o start a 20 se hanno start a 20 si bug la lobby guarda beh oh a 19 è start a 20 si è bug la lobby no secondo me ci metti di più perchè siamo un pochino si può essere aspettiamo non trovai avversari siamo diventati troppo forti in meno di un giorno eh 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 primi in Europa eh beh io sono sono quasi livello sei voi che livello siete mi sembra segnava 3 mi sembra segnava livello 3 a me sì no no ma i livelli prima li ecco infatti anche a me sì sì ha trovato ha trovato questa mappa però fa che hai raggiunto eh questo è pure difficile perchè devi andare da un posto all'altro a volte è complicato c'è qua un solo ci metti 3 ci vuole 3 ore prima che ci arrivi io ho preso sanders io ho preso balance ma che cazzo ho preso ma che cazzo ho preso io che cazzo ho preso ma tanto sono tutti uguali qui no ho notato che non sono proprio tutti tutti uguali perchè tipo in alcuni hanno abilità diverse mi ha tirato giù in strada però gli ho sparato anche sì no poi hanno anche velocità diverse ma tirato gioco col tanathos lì mi so che ha tipo per esempio oxcon corre più velocemente e vabbè oh mortacci una mina mi hanno messo davanti ammaccolo ho visto hanno messo una torretta e attento e attento e la persona e la persona e oxon e fortesi cazzo come la filo giù la torretta e che mi spara orca troia e e oh ah ci abbiamo nitro zeus questo è forte ce l'abbiamo incontrato pure prima non so se te lo ricordi quello è forte proprio madonna che spottentino diciamo via l'ho tirato giù madonna la torre è pure a me oh ma la vita non si ricarica com'è eh devi prendere c'è la wolf ah no 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 wolf aspetta qual'era che ce l'aveva dallas dallas c'ha la skill della della silinga per ripristinati da hp ovviamente io non ci posso giocare a questo gioco a me non ci provo perché scusa no ah no hanno aperto la cassa porca droga niente c'è c'è con la mina laser c'è oddio mi ammazzano subito mi ammazzano subito e perchè hai perchè hai la roba bassa c'è eh difendetela ma ma voi pure fate venti di danno hit si si più o meno si tranne io che alcune armi faccio 30 32 fanculo la torretta c'è no attenzione hanno aperto quasi la c e la eh io sono la quindi oh gli ho sparato non moriva la troia eh ne tiene due torretti no ci stanno due torretti no è persa questa fallita oh la troia oh sono respawnato col criminale davanti no no gli sparavo ma era invincibile poi è finita la partita si è vero a volte capita no no non uscite con il nome tipo ognuno dei tre eh deve fare una cassaforte l'uno c'è deve difendere una cassaforte l'uno e deve attaccare una cassaforte l'uno no è che se rimaneva la cosa la cassaforte quella gialla ci avevamo speranza di vincere la partita è la prima che dobbiamo sempre dobbiamo difendere quella la prima sì perché quella è quella principale ma siete usciti voi no no sta facendo tutto da no sto facendo una cosa no a me mi è uscito non ha continuato la partita e non lo riesco anche io allora perché non so qui mi sa che carica per in attesa di giocatori mi dice no no esci allora esci andiamo su colpi volete cambia il gioco direttamente ma io voglio vedere altri giochi su top top a parte questo di qua quali giochi vuoi vedere stanno che ne stanno un bel po che stanno uscendo cioè nel senso devono uscire perché sono in beta però non è possibile scaricarli perché dice che non è disponibile quindi cos'è il pubg mobile light sarebbe la versione leggera di più bg esatto leggero significa light cioè per esempio la grafica viene ci vuole che viene no 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 è normale come ci vuole non è più compatibile con i cellulari più più scusi diciamo esatto sì è leggero per quelli che non sono troppo di gamma insomma quello è 30 ma voi l'avete provato fifa 16 social è carino fifa 16 no no è vecchio fifa 16 d'amore c'è black desert mobile prova 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 FIFA 20 ti chiama FIFA Soccer mobile mi pare l'ho provato è carino cioè alla fine poi pure come 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 difficoltà dei bot è molto alta perché tipo alcune volte ho notato che quando tu fai non riesci a fare gol a volte a volte si si no è infatti a volte è complicato sì ma quello man mano che trovi i giocatori poi ti fai la rosa comincia a vincere partite però l'online più difficile perché stai contro giocatori cioè con altra altra gente vabbè sì quello sì secondo me l'online tipo per adesso non c'è è in beta che no no l'online c'è puoi giocarci però a volte ti disconnette perché vabbè è in beta c'è scritto all'inizio quando entri nel gioco dice questo gioco in beta è e potresti riscontrare alcuni bug e problemi insomma ma questo è normale con tutti i giochi in beta è così ditemi quando siete pronti ecco io ci sono sto aspettando ah sì vai secondo che se mia mi devi apparire online perché sennò non ti posso invitare per casa non mi chiamo non ti fa aggiungere invece di invece di cavani mi chiamo cannavani 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 la migliore squadra del mondo ma si può cambiare divisa sì vero non so sicuro mi sembra di no però per adesso facciamo l'ultimo e poi andiamo su code che ne so facciamo br facciamo qualche match normale ci dà un sito lettore è una vicenda con adesso ma io con australia gioco bene è solo che quando si alza 150 o anche a 130 cominciò cominciò ad andar male insomma in chiesa riesco a giocare con in chiesa 120 125 va bene ma se va poi a 150 non fai più nulla è troppo bravo bravo esatto questo sì 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 ti sento ti sento di sento basso ma ti sento no adesso sì ti sento bene prima non ti sentivo quasi per niente se vedete il mio su code io ci sono devo fare un paio di partite eh ha chiesto di fare una partita qui su su paio di l'ultima e poi si passava tutti su code sì 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 l'ultima partita qui e poi basta no io giusto per farvelo provare come era quello sul telefono non è male se si gioca così insieme la grafica c'è pure ronaldo sulla juve sì 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 certo certo però i giocatori li trovi a caso non li puoi comprare per il momento perché venga è bloccato è un momento è bloccato perché in beta però poi dopo magari lo aggiungeranno piano piano adesso ti fai le partite e provando proton sì perché prima mi dava problemi tipo giocavo con 200 di ping adesso lo riprovo tanto per no guarda allora i server sono quelli buoni gli altri non sono buoni gli altri non o non ti fa connettere o ti da grossi problemi di connessione i server sono su proton sono da 14 a 18 presi ha detto mi sembra da 13 comunque è vabbè da tre o da 13 o da 14 dipende perché a volte non funziona al 13 io e io pro ogni volta che clicco il 16 parte sempre il 16 esatto esatto solo che appunto segna 50 per cento giallo e a volte non è buono però è l'unico che prende ti tocca pigliare quello se tutti gli altri non fanno già infatti e questo è il problema che a volte lo stesso è alto quindi è un casino 15 110 ma quindi fai la partita con noi oppure stai 15 dobbiamo essere 15 15 15 15 15 15 15 16 15 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 le madonne mi trovo c'è che un'arma si può usare il cecchino perché è vero è vero cecchino un colpo e muori invece le altre è difficile perché ti lagga ritorni indietro e poi i colpi non entrano vabbè ma comunque secondo me ragazzi io torno sempre c'è sempre lo stesso pensiero che il racket secondo me c'è qualche problema proprio non è che fatto del ppn o sta cosa qua b che in rank ed si alza troppo il ping troppo troppo non va bene così c'è addirittura arriva certe volte arriva 170 in rank ed c'è non si può giocare me anche il 202 226 sì sì anche a me anche a me a volte mi ha disconnesso c'è se vado a giocare in partite normali o 116 sì 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 esatto è quello che intendevo prima cioè secondo me era anche di c'è qualche problema non lo so dovrebbero rivederlo un po così non è impossibile genevin c2 su cento che giochi c'è non si può così se però è vero quello che abbiamo trovato l'altra sera come correvo che in base a cioè se un tuo componente di squadra c'è il ping alto lo mette alto a tutti sì 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 no quello è vero quello è per quello allora anche quando giochi con gli estranei a casaccio se ti giochi da solo ti capita una squadra di gente che ce l'ha tutto il ping altro ti viene quel ping alto anche a te sì 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 infatti è così e lo stesso vale per te cazzo sta come ce n'è uno in via porca troia porca troia ma ha fatto il culo questo in no suonline no sono troppo forti oh e dai che ca ma quanti erano 3 4 eh erano tutti rire attaccano insieme attaccano insieme questo sì 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 io stavo prendo la c così intanto ce n'abbiamo uno queste stronti alle spalle spara mannaccio ma preso uno da anzi due mi hanno preso da da davanti mi mi hanno fatto a pezzi non c'è il salvo a tempo a troppo tardi mi era girata stavo guardando lì siamo preso anche un lancio mi hanno preso col coltello affanculo mi ha fatto un colpo questo boom ho ucciso ho salvato il culo ma guardalo questo da fuori a rompercazzo ma guarda è sempre dietro uno ammazzo quello lì e c'ho quell'altro dietro in realtà tanto abbiamo aperto l'applicato che allora tutto tipo di stessi forza i tipi tutto tutto spai e fai solo più sì 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 infatti è così perché trovi tutti i bot i bot si fanno uccide facilmente anche se più sali di rilello e più più so cazzo ostici i bot no porca troia finito il tempo tra l'altro fallito le manette eh ci hanno arrestato non c'è posto di vedere non c'è posto di vedere ho tirato un pallonetto che il portiere praticamente era fuori era fuorissimo il portiere è andato sul palo e dopo questo mi ritiro che sfiga minchia che sfiga che sfiga che sfiga data avevo 5 colpi nel caricatore ho fatto 6 uccisi minchia minchia come fa come è possibile e ho preso un'impollata ah ecco ma come cazzo faccio a fargli un gol pure tu porco davolo è morto porco ma te va ma te va Grazie a tutti.